Il tempo si è fermato lì. Martedì 3 marzo, ore 22.30 circa, 27 secondi alla fine della contesa contro l'Andria ed il brasiliano Ivan Zerbini che di sinistro mette dentro la rete del 4-3, manda in estasi tutto il palaborsellino e porta i nero-verdi in vetta la classifica a più due sull'Itria. Sorpasso compiuto e finale da favola, dopodiché il nulla. Tutte le società infatti vengono costrette a sospendere le rispettive attività per contenere la diffusione del Covid-19. Ma quando si ricomincia allora? Perché si ricomincia no? Questo è quello che da settimane si sono chiesti tutti gli addetti ai lavori, ma di risposte finora zero. Allora proviamo a prendere in considerazione l'ipotesi che non si possa più ripartire e vi spieghiamo perché il Fuzz al Bitonto 2019 e il suo campionato l'ha già vinto. L'ha già vinto perché 23 tre vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta con 148 gol segnati e soli 68 subiti non sono numeri messi lì a casaccio. Sono numeri che rappresentano due cose. L'ottimo lavoro svolto dalla società durante le fasi di mercato con la creazione di un gruppo di uomini validi guidato da capitano Angelo Satalino e l'ottimo lavoro tattico svolto dal condottiero nero-verde mister Pietro di Bari. Quel mister di Bari che già lo scorso anno aveva condotto i bitontini alla vittoria del campionato di Serie C2. Un gruppo di uomini dunque che grazie alla loro umiltà e dalle loro fantastiche gesta sportive è riuscito nell'impresa di far innamorare la cittadinanza bitontina di uno sport come il futsal, portando sempre più gente durante le partite in casa fino a scrivere la storia nello sconto diretto di novembre contro Litia in quel di Cisternino, quando una folta rappresentante di supporter nostrani colorò di nero-verde il settore ospiti del palazzetto Brindisino. Poi l'ora di indelevili, difficili da dimenticare. Se a ciò, poi, sommiamo l'ottimo lavoro svolto dalla dirigenza Juniors e dal mister Claudio Barbosa, con tanto risordo ufficiale in prima squadra di ben 5 ragazzi, non possiamo che definire la stagione un autentico successo. E pensare che sì, quel martedì 3 marzo, alle ore 22.30, al gol del brasiliano Ivan Zerbini, il tempo non si è fermato, no. Ha soltanto scandito i secondi di qualcosa che, nonostante tutto, ci fa guardare al futuro con positività e ci fa dire che torneremo tutti e sarà ancora più bello.